La giornata sacerdotale è sempre un'occasione bella per noi presbiteri delle chiese di Sicilia e lo è per due motivi. È un forte momento di spiritualità mariana e mettersi alla scuola di Maria è sempre la strada giusta per accogliere nella propria vita il suo figlio Gesù e donarlo agli altri. Il compito di ogni sacerdote è portare la presenza del Signore Gesù come ha fatto la Vergine Madre. L'altro motivo è un momento di comunione tra di noi, di crescita nella fraternità. E la giornata di quest'anno, la 32esima, avviene durante il cammino sinodale dove tutti siamo chiamati a vivere un discernimento per poter comprendere le indicazioni che lo Spirito suggerisce e svolgere con fecondità il Ministero nelle chiese che a noi sono affidate.